Vediamo insieme questo trattamento di refil da salone. Con punta cilindrica eseguo la limatura primaria di preparazione al trattamento di refil. Con il kit di punte per manicure base che trovi sul nostro sito leunghiedimicol.com eseguo la salon manicure non invasiva. Trovi tutte queste tecniche descritte nei dettagli sul mio manuale La ricostruzione unghie secondo Emicol in vendita su Amazon. Applico kit massima aderenza che potenzia l'adesione di qualsiasi prodotto costruttore. Successivamente stendo Fantastic Rose Builder, un gel ad alta tissotropia. Con il kit punte struttura eseguo la limatura strutturale con la tecnica di limatura zone che ti permette di ottenere una struttura di ricostruzione sottile ma resistente. Successivamente completo la salon manicure con il kit di punte per manicure avanzata. Applico due stesure di nudo numero 7 ed eseguo la tecnica di stesura del monocolore sottocuticola con pennello perfetto. Direttamente sulla dispersione del semi permanente eseguo la nail art con water paint. Impara tutte le tecniche di nail art da salone per ottenere decori in modo semplice e veloce con il nostro corso disponibile ancora con pagamento ratizzato. Successivamente sigillo il trattamento con Magic Shine. Applico olio per cuticole per idratare la zona periungueale. или non dormitere la zona per a salone per a salone per a pulmaan r screen. feedback. Step 1 e poi